Si chiama Anastasia Quicto, ha soltanto 21 anni ma è già una star dei social network e su Instagram conta più di 700.000 followers. La bellissima e bionda modella ha un fisico decisamente fuori dagli schemi e mentre qualcuno si chiede se sia solo merito dell'attività fisica o se il chirurgo ci abbia messo lo zampino, lei continua a fare il pieno di like ad ogni nuova foto che posta. Per le sue forme decisamente esagerate è stata soprannominata la Kim Kardashian russa. Di certo il suo fisico ricorda molto quello della più famosa collega americana e scorrendo la gallery nella sua pagina si può capire il perché di questo paragone. In questi giorni tra i numerosi fan di Anastasia sono in molti quelli che ipotizzano quale potrebbe essere l'obiettivo della bella modella, cioè quello di entrare nel cuore dei tifosi di calcio e di essere per i mondiali del 2018 che si svolgeranno proprio in Russia, quello che la formosa paraguaiana Larissa Richelme è stata per i mondiali 2010. Per il momento Anastasia non conferma e continua a mostrarsi in foto piuttosto o se. Insomma sarà lei la musa di Russia 2018?